L'assunta del Montorsoli e i fuchi della terrazza, un ferragosto diverso da tanti altri, quello proposto dal Mume che apre i suoi cancelli in occasione della festa agostana. Giorno 15 agosto il museo sarà infatti visitabile anche dalle 19.30 alle 24 con la presentazione della testa della statua dell'assunta di Giovanangelo Montorsoli, finora mai esposta e visite guidate nelle sale di Antonello, Caravaggio e Montorsoli. I primi 200 acquirenti del biglietto intero, che ha un costo di 8 euro, potranno partecipare alla pericena sponsorizzata e assistere dalla terrazza del museo aperto in anteprima all'illuminazione delle luci del Forte San Salvatore e allo spettacolo pirotecnico in onore dell'assunta. Il programma prevede dalle 19.30 alle 2 visite guidate nelle sale di Antonello, Caravaggio e Montorsoli, curate dalle storiche dell'arte Elena Ascenti, Giovanna Famale, Sandra Migliorato e Donatella Spagnolo. Alle 21.30 la pericena, quindi alle 23 la visione della terrazza e l'illuminazione del Forte, mezz'ora dopo a seguire, sempre alla terrazza del museo, si potrà assistere ai fuochi di artificio. Alle 24 il museo chiuderà le porte.